ma tutto passa e adesso sulle sacre scene dell'olimpia arriva Shimada. Shimada è il nostro mago preferito del lontano oriente. Egli ha preso la sua arte per corrispondenza all'ombra di Confusso, ai piedi del grande Mikado. Shimada è un mago serio dal colpo scenico. Guardate! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!